Questo mese è il momento che tutte le mie colleghe di Intimissi che lavorano con Intimissimi temono, cioè il momento in cui io vi faccio vedere tortellona per Intimissimi, perché insomma la competizione qua è alta. Vi ho indossato un pagliaccetto di cotone morbidissimo, che però è un po' trasparentino, non volevo sembrare troppo sexy, sopra ci ho messo la giacca di un pigiama meraviglioso che esiste anche nella variante rosa che vado a farvi vedere. Nella variante rosa ha anche questa bellissima vestaglia, guardate la bellezza. Ultimo pezzo di questa sfilata Intimissimi, questo pigiama, questa allegra fantasia floreale, con anche la sua vestaglietta, questo è quello che ho selezionato per voi e di cui vi lascio il link. E con la testa, con il petto, con il cuore, ciao ciao, e con le gambe, con il culo, con i miei occhi, i miei occhi. Il meglio direi che l'ho dato sul beautico, sempre pronto per andare via, dove ho un deodorante finito, perché è finito e non è neanche il mio di somatoline. Volevo solo testimoniarvi che ho una voce e che ho dei capelli pazzeschi, perché ho rifatto la cheratina e che mi sono truccata e non faccio più schifo al cazzo. Volevo testimoniarvi questa cosa. Hanno cambiato stanza all'Eden e ho lo specchio, posso farvi vedere il look del vestito di cui mi state chiedendo, che è di Balenciaga, è un vestito fatto di due vestiti attaccati. Non so se si capisce e mi piace molto, mi è super comodo. Oggi peraltro parte una collaborazione alla quale lavoro da mesi e che è interessante, avrevo già detto, di seguire Your Business Lab di Vodafone, perché ci sono delle cose interessanti per i piccoli imprenditori. Oggi cominciamo a spiegarvi un po' di cose. Ciao, sono Cristina Fogazzi, sui social l'estetista cinica e mi unisco a Vodafone Business per un progetto volto a far crescere le piccole e medie imprese italiane, anche la tua. Il progetto si chiama The Digital Makeover. Se hai un'attività, Vodafone può diventare tuo Vodafone. E finalmente possiamo parlare di questo progetto in cui sono stata coinvolta da Vodafone Business come imprenditrice digitale per fare da mentore alla digitalizzazione di una piccola impresa. Ma capiamo meglio, sa. Vodafone Business ha un progetto che si chiama The Digital Makeover, che si rivolge proprio alle piccole imprese e le aiuta creando delle soluzioni ad hoc per portarle a digitalizzarsi. Hanno scelto me come mentor proprio per la mia caratteristica di imprenditrice digitale, ma la cosa molto interessante è che anche la piccola impresa che andremo a digitalizzare sarà di una persona molto vicina a me e lo scoprirete insieme. Insieme Ma solo un attimo Come dire Un errore di distrazione Questo cuore è sempre attento A non fare un passo falso A non essere mai convinto di niente A non fare un passo A non fare un passo